Stamattina come Spircigelle di Livorno abbiamo chiesto di fare una conferenza stampa ai giornali locali per manifestare tutta la nostra preoccupazione sulla situazione dei quartieri nord della città di Livorno anche alla luce del fatto che il governo ha praticamente stralciato i finanziamenti che venivano dati al Comune di Livorno per fare alcuni interventi soprattutto nei quartieri nord e in particolare per quanto riguarda la chiccaia. Noi siamo fortemente preoccupati, verificheremo naturalmente se questo accadrà perché le assicurazioni del sindaco non sono per noi sufficienti dopodiché se questo avverrà, cioè se non verranno dati i finanziamenti per la ristrutturazione della chiccaia è chiaro che noi faremo movimento e faremo iniziative. Se si scorre la piattaforma dei quartieri nord che come Spircigelle abbiamo fatto da anni e pertanto abbiamo paura che queste rivendicazioni rimangano nel limbo che ormai si accavallano anche fra legislatura e le elezioni e le elezioni dell'istituzione comune, notiamo che il criterio è quello della sicurezza. Questo fra la dice lunga perché ormai bisogna che si intervenga. La nostra piattaforma l'abbiamo già consegnata da tempo dal sindaco alla giunta a tutte le partiti e le delegazioni, le consiglieri, i partiti anche dell'opposizione che sia dal Consiglio Comunale non si ha notizia di niente. Noi avremmo piacere di essere consultati e di essere ricevuti. Ormai è troppo tempo che mancano questi contatti delle associazioni, in questo caso dei pensionati e dei residenti e pertanto se non veniamo a breve scadenza ricevuti metteremo in campo tutto quello che la nostra esperienza evidenzia da anni.